Entra nel mondo l'olato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un possibile rinforzo dell'alta pressione di matrice africana, tempo stabile dunque e clima gradevole. Il dettaglio di lunedì 12 settembre. Sul Veneto sarà asciutto, tanto sole ovunque come ci mostra la nostra grafica. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi al massimo velato. Qualche addensamento pomeridiano sui monti ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature in ripresa minime tra 11 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui c'è lo sereno, specie su pianura e costa, al massimo poco nuvoloso sulle zone montane. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime intorno ai 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato dunque poche novità, solo con qualche velatura ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.